Ciao a tutti amici e benvenuti o bentornati soprattutto su Spazzo Col Drone faccio questo video davvero molto molto flash perché c'è una notizia davvero importante da darvi ci tenevo davvero tantissimo nonostante non sto avendo proprio il tempo di mettermi a registrare a portarvi contenuti perché sono preso da tante cose, lavoro, famiglia, insomma sono abbastanza assente però ho voluto prendermi questi due minuti per darvi questa notizia importantissima riguardo gli attestati esteri infatti è uscita proprio a brevissimo una nota comunicativa di ENAC che vi faccio leggere subito allora cosa dice? a seguito di un intenso scambio di informazioni con EASA in merito alla diffusione sul territorio europeo di attestati e certificati per la categoria open A1, A3 e A2 di natura fraudolenta ENAC avvisa tutta l'utenza che gli attestati conseguiti in paesi dell'UE o attraverso siti web ad essi riconducibili non aderenti alle previsioni del regolamento di esecuzione EU 2019-947 e non conformi ai formati standard sotto riportati attenzione, non sono riconosciuti in Italia quindi si invitano pertanto gli utenti, prima di effettuare gli esami, a verificare che le certificazioni siano rilasciate dall'autorità dello stato membro e nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea ecco andiamo a vedere quindi cosa significa per standard questo è la 1, A3 quindi in alto abbiamo il logo di EASA in alto invece a destra abbiamo il logo dell'entità diciamo nazionale poi ci deve essere la bandierina dell'Italia nel nostro caso comunque sia del paese dell'Unione Europea e poi naturalmente oltre al loghetto A1, A3 oppure A2 ci deve essere anche nome e cognome di chi completa l'attestato poi ci deve essere il numero di registrazione la data e mi raccomando ci deve essere anche il QR code che cosa significa questo? significa che dobbiamo prestare attenzione a chi ci fornisce l'attestato nel caso in cui decidiate di conseguire l'attestato all'estero quindi l'attestato deve essere esattamente come questo standard non deve mancare nulla non deve essere posizionato nulla in maniera diversa altrimenti non sarà riconosciuto in Italia ma la notizia non finisce qui perché attraverso fonti non ufficiali ma ufficiose si è parlato anche del fatto che EASA stia a breve per fornire un comunicato in cui dirà che la modalità per conseguire l'attestato A2 sarà proctored per legge in tutti gli stati membri quindi sarà davvero impossibile sostenere un esame A2 online da casa bisognerà per forza di cosa rivolgersi a un'entità riconosciuta e quindi sostenere l'esame in modalità proctored ovvero monitorata per evitare ovviamente i famosi brogli e niente questa è la notizia ci tenevo davvero tantissimo a portarvela nonostante non sia in condizioni adesso sto facendo il mammo quindi se durante il video avrei sentito un po' di gemiti di neonato insomma si tratta di mia figlia però insomma volevo comunque sia essere presente dopo tanto tempo cercheremo nelle prossime settimane di essere un po' più presenti sto facendo tutto il possibile per ritagliare un po' di spazio anche per ovviamente per YouTube quindi non vi voglio abbandonare proprio sul più bello non lo farò mai anche con Aristide siamo promessi di rivederci a breve per continuare la famosa rubrica che commentiamo i video degli iscritti e per portarvi tanti altri video per il momento questa è la news news di giornata quindi mi raccomando fate molta attenzione e informatevi sempre bene prima di dare soldi a chi magari poi vi darà un attestato che non servirà poi a molto è davvero tutto non mi resta che salutarvi augurandovi come al solito buon volo a tutti